è caduto come l'ho detto ciao ragazzi e bentornati a gioco come giochi per bambini il vostro canale preferito allora sono qui con Barbie di nuovo una nuova Barbie e una nuova sorellina si chiama Stacy la sorellina minore eccola qua e sono insieme in questo bellissimo set dove abbiamo appunto due bambole e un parco all'aria aperta quindi dove abbiamo anche il frisbee come vediamo in alto e una bottiglia immagino per l'acqua insomma per divertirsi insieme e andare a fare un bel pomeriggio di svago vedete qua il frisbee e la bottiglia ovviamente ci può essere qualsiasi cosa dentro la bottiglia il set è per i bambini dai 3 anni in su allora ecco qua l'altro set disponibile oltre a questo e quello con Barbie e l'altra sua sorellina che abbiamo già visto Skipper al cinema se vi ricordate che per chi l'avesse perso insomma si vada a vedere il video e ovviamente sotto ai 3 anni non è possibile non è consigliato questo set perché ha pezzi molto piccoli che potrebbero essere ingeriti è distribuito dalla Mattel ovviamente e il marchio è Barbie ecco le qua le nostre due sorelle ovviamente abbiamo la nostra Barbie sempre con i soliti capelli super luccicanti come dico io e guardate che scarpe con zeppa sono sneaker molto alte bianche proprio molto sportive come tutto il look d'altronde ha questa tutina molto carina e questo giacchino di jeans per sdramatizzare un po' e guardate il cerchietto rosa che riprende le strisce della tutina ovviamente la nostra Barbie è sempre vestita di tutto punto sempre in tinta e il suo viso è sempre insolito abbiamo i capelli che sono tagliati un po' malino se posso permettermi sono di diverse lunghezze ma comunque non è un problema ecco ovviamente muove sempre braccia e gambe ma questo braccio è piegato così e non si muove cioè fermo immobile e ovviamente le gambe fino a fare la spaccata la solita spaccata di Barbie ok vediamo un po' sono scarpe che si possono togliere ha piedi piatti guardate di solito Barbie ha i piedi un pochino più pronunciati la pianta del piede invece sono molto piatti questi bene questa è la nostra Barbie che può stare in piedi proviamo si ragazzi sta in piedi da sola perfetto mettiamo a posto ecco no è caduta come ho detto e vabbè non fa niente cerchiamo di rimetterla in piedi niente è troppo complicato ragazzi fa lo stesso va benissimo anche sdraiata non c'è nessun problema e questa invece è la sua sorellina Stacy che anche lei è vestita proprio molto sportiva si vede che sono sorella il viso è identico i capelli sono un po' diversi sono un biondo un po' più scuro verso il miele direi colore miele e appunto sono più ispidi come posso dire non so come mai la differenza è notevole con quelli di Barbie comunque anche lei veste sportiva anche lei ha le braccia e le gambe che si muovono il braccio destro fermo in questa posizione 90 gradi allora l'outfit è questo vedete ha questa maglia sportiva con questo 3 e varie varie decorazioni anche lei ha scarpe molto piatte e piedi molto piatti quindi è di famiglia avere i piedi piatti a quanto pare ecco qua la maglia che vi dicevo vedete ha un asterisco ha una pizza yum insomma stelline decorazioni tipiche di maglie per ragazzine insomma anche uno skateboard e poi i jeans a pinocchietto adatti insomma a questa stagione anche se devo dire il vero che non fa per niente caldo essendo comunque già maggio ma c'è piuttosto freddo perché appunto sta piovendo tutta la pioggia che non è venuta in inverno sta venendo ora quindi insomma non è il solito maggio caldo in ogni caso questo è il suo outfit prontissime per lanciare il frisbee che vedete ha l'appoggio per il dito ecco qua per essere portato e anche ovviamente la la bottiglia che abbiamo visto prima stessa cosa ha questa maniglia per essere portata e riempita appunto con acqua insomma quello che si vuole portare per andare a fare non so una corsetta oppure una giornata al parco insieme un po' di svago insomma eccole le nostre due sorelle allora per me sicuramente un un pollice in su come vi dicevo molto molto bello questo set e insomma fatemi sapere anche voi cosa ne pensate se preferite questo set con la sorellina minore di Barbie Stacy oppure preferite l'altro set dove Barbie e Skipper la sorella più grande vanno al cinema aspetto le vostre opinioni intanto io vi saluto come sempre vi ringrazio per seguirci sempre e per insomma darci sempre supporto un bacio a tutti e a prestissimo ciao ragazzi per la sorellina Grazie a tutti.